Zona Latina, gruppo bresciano che nasce nel 1999, hanno le spalle circa mille esibizioni. Di spiccato estro la caratteristica è nel coreografare i propri show con ballerini non professionisti. Questa sera Luca, Stefano, Alessandro, Mattia, Marco, Mauro e Gabriele ci presentano il loro show intitolato Seven. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501